Adesso tanto comunque, mentre voi uscite dal microfono ai prossimi che entrano, che non cantano, ma se non va tutto bene ce le suonano. Perché? Perché questi sono i capoccia, così diremmo noi, prego prego potete andare, del festival, perché grazie a loro si riesce in qualche maniera ogni anno ad avere sempre più ospiti, sempre più musica, sempre più qualità. Non posso dire che sono due anni che preparano questo festival, perché due anni fa preparavano quello dell'anno scorso, ma un anno intero ce l'hanno messo per mettere su, senz'altro dei fondi, e lo sapete benissimo che è un momento difficile per tutti, ma anche per mettere su la fantasia e una squadra di persone che veramente abbia la passione di che cosa? Beh, della cultura italiana, siamo famosissimi nel mondo e questo forse è più per gli italiani che vivono in Italia, non abbiamo una grossa considerazione di noi, una considerazione che invece all'estero ci è data, ci è tributata e quindi noi siamo qui a ricordarlo anche con l'Associazione Culturale Italiana di New York. Presento il chairman, se dice chairman, Tony Di Piazza, vieni Tony, piccolo ma volitivo. Antonio Vandoni, direttore artistico del festival e anche direttore di Radio Italia Solo Musica Italiana, che quindi fa una selezione anche a prescindere di italianità. Salvatore De Castro, detto Sal De Castro, codirettore artistico e codirige artisticamente il tutto, già ha perso 26 chili al dirà delle quinte. Stefano Santoro, vieni Stefano. Come va dimagrimento Stefano? Abbastanza? Allora, Tony, dici tutto, io manco ti faccio la domanda, tanto vai in automatico. No, ma dai, il compito mio è quello di dare a tutti il benvenuto, ringraziarvi per aver partecipato a questa bellissima quinta edizione, in una bellissima cornice, con una bellissima Benedetta Rinaldi, un bel applauso che è venuta dall'Italia per noi. È doveroso, naturalmente, porgere anche un ringraziamento al maestro Minghi, che ci ha onorato questa sera con la sua presenza, Enzo Iacchetti, tutta la giuria, di nuovo grazie a tutti e buon divertimento. Allora, Antonio, grazie a Tony. Antonio, tu che sei comunque direttore artistico anche di Radio Italia, te ne intendi di musica italiana, ve ne siete compiaciuti di questa scelta di questa sera? Ne abbiamo sentiti soltanto due, diciamo, di concorrenti, ma adesso avremo modo di sentire la bravura degli altri. Non è facile però trovare bravi artisti italiani. Dici bene, buonasera a tutti. La scelta è stata veramente impegnativa, l'abbiamo lavorato da sei mesi per questa scelta dei dieci artisti. Speriamo davvero di aver fatto un gran lavoro. Io garantisco la qualità delle voci e la ricercatezza dei testi, perché sono tutti brani inediti. Il livello consideriamo sempre di migliorarlo ogni anno. Io il primo anno sono onorato e ringrazio Tony Di Piazza per avermi invitato per cercare di fare ancora meglio dall'Italia, perché ci sono dei talenti veramente che meritano l'attenzione di questo palco, la possibilità di esibirsi in un palco così prestigioso. E poi non è mai detto perché magari non si fa fortuna in Italia e invece avere uno sbocco anche all'estero può portare a sensibilità musicali e anche, che ne so, a colpi di fortuna che forse vengono dall'estero. Chi è? Che dicevi? Mi sono dimenticato. Come posso dimenticarmi di ringraziare i nostri benemini di Un Posto al Sole? Un bell'applauso a loro. Tony, svegli tutte le carte prima. Io, questa la vedi, si chiama scaletta. Un applauso. Grandi. Allora, una breve battuta anche a Sala Stefano su come vi sentite. Ci arriveremo vivi innanzitutto a questa fine di... Comunque, credo che già loro hanno detto abbastanza, hanno detto tutto di questo festival. Sta crescendo anno per anno. Basta vedere la qualità di questi artisti che abbiamo questa sera. Come avete detto, ne avete ascoltato solo due, ma avete modo di ascoltare gli altri. Sono uno più bravo o più brava degli altri. Perciò ringraziamo tutti voi di essere intervenuti. Tony Vantoni che ci ha dato una grossa mano dall'Italia. Io non mi spiego perché se tu hai un microfono sei venuto a parlare non mio, scusami. Già che abbiamo due microfoni, ragionavo così. Perché questo è quello che usano i cantanti, già regolato col riverbo e tutto. Comunque parlo con questo, ho visto che lei si è disturbata. Dai, dai, passa il microfono degli artisti a Stefano. Passo il microfono a Stefano. Che non voleva parlare, quindi adesso parla Stefano, a piacere. Sì, fammi la domanda se devo parlare. No, a piacere, vai. No, a piacere. Allora devo essere un po' scherziamo, voglio sdrammatizzare un pochettino. Io dicevo giorni fa, mi chiedevano qual è il successo di questo festival. Il successo di questo festival è che durante le riunioni non parlo di calcio con Tony di Piazza. Perché sapete benissimo che lui ama tanto l'Inter, io amo tanto la Juve. Quindi a parte lo scherzo. Ed è per questo che io sono amica di Tony di Piazza e non tua. A parte lo scherzo perché qui ho tanti amici interisti, quindi non vorrei. Eccolo lì. Non è Enzo. Non sei interista, scusa. Non eri interista tu una volta? No, no, volevo soltanto dire... Uno a lui, lui non è interista. Ah, ecco, appunto. È bianconero. Pensavo che fosse un'anima milanista in te che non conoscevo. Già stanno in carcere, vedi, appena ha cominciato. A parte lo scherzo, non ti rubo più tempo. Volevo soltanto dire che tutti i cantanti, tutti i partecipanti, sono tutti professionisti, tutta gente che vive di musica, quindi il loro valore è altissimo. Sono venuti da tutte le parti del mondo, addirittura all'Australia, quindi sono dei giovani che veramente promettono tantissimo. Grazie. Allora, grazie al nostro quartetto Cetra che possiamo congedare qui. Grazie. Grazie.